Questo vertice è il primo appuntamento internazionale che l'Italia ospita da quando ha assunto la presidenza del G-SET ed è frutto di una scelta politica estera estremamente precisa che porterà a riservare all'Africa un posto d'onore nell'agenda della nostra presidenza del gruppo dei SET. Abbiamo fatto questa scelta perché l'obiettivo di medio e lungo periodo che ci siamo dati è quello di dimostrare che siamo consapevoli di quanto il destino dei nostri due continenti, Europa e Africa, sia interconnesso e pensiamo che sia possibile immaginare e scrivere una pagina nuova nella storia delle nostre relazioni. Una cooperazione da pari a pari, lontana da qualsiasi tentazione predatoria ma anche da quell'impostazione caritatevole nell'approccio con l'Africa che mal si concilia con le sue straordinarie potenzialità di sviluppo. Questo nuovo approccio, del quale la nostra nazione vuole farsi portatrice, si rispecchia anche nel titolo di questo vertice. Italia-Africa, un ponte per crescere insieme. L'immigrazione illegale di massa non sarà mai fermata, i trafficanti di vite umane non saranno mai sconfitti se non si affrontano a monte le cause che spingono una persona ad abbandonare la propria casa. È esattamente quello che intendiamo fare, da una parte dichiarando guerra agli scafisti del terzo millennio e dall'altra lavorando per offrire ai popoli africani un'alternativa fatta di opportunità, lavoro, formazione e percorsi di migrazione legale. Il Piano Mattei risponde anche a questa esigenza e può contare su una dotazione iniziale di oltre 5,5 miliardi di euro tra crediti, operazioni a dono e garanzie, dei quali circa 3 miliardi verranno destinati dal Fondo Italiano per il Clima e circa 2 miliardi e mezzo dalle risorse della cooperazione allo sviluppo. Certo non basta, per questo vogliamo coinvolgere le istituzioni finanziarie internazionali, le banche multilaterali di sviluppo, l'Unione Europea e altri Stati donatori che hanno già dichiarato la loro disponibilità a sostenere progetti comuni. Così come abbiamo intenzione di creare entro l'anno un nuovo strumento finanziario assieme a Cassa Depositi e Prestiti per agevolare gli investimenti del settore privato nei progetti del Piano Mattei.